Ben ritrovati dall'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, ci concentriamo sulle sette corse di trotto previste per lunedì 16 novembre all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Apertura alle ore 13.50 con la prima competizione che precede innanzitutto la terza corsa che l'ha condizionata con il monte premi più interessante 9.900 euro e riservata a due anni. Poi due inviti ancora in programma, uno per i tre e uno per i quattro anni e si chiuderà con una seconda trist nazionale abbinata al premio Brado, la settima corsa che correrà alle ore 16.45. Andiamo con ordine però, andiamo sulla prima competizione, una condizionata sui 2200 metri, distanza più selettiva, dove impegnati sono i quattro anni e il premio Musei Vaticani. Ci parla di questa corsa Massimo Zanca con Artemisia Garre impegnato, ritorna peraltro dopo tanto tempo e l'incidente che era accorso dopo l'arrivo in pista alcuni mesi fa. Siamo con Massimo Zanca, qui intanto diamo il benvenuto, dopo tanto tempo ritorni all'Ippodromo di Siracusa, circa una settimana che sei lavorativo, intanto come stai dopo l'incidente che era accorso? Adesso va tutto bene, abbiamo passato un po' di giorni difficili, insomma ci siamo ripresi, è stato pesante stare a casa tutto questo tempo. Per di più, non soltanto l'incidente ma anche tanta voglia di ritornare in pista. Eh sì, certo, la passione, il lavoro è tutto, poi ti ripeto la passione è grande per i cavalli, quindi non vedevo l'ora di tornare. E allora parliamo di cavalli su pista, andiamo alla prima condizionata che aprirà il trotto lunedì 16, sono sette cavalli al via, provate con Artemisia Garre. Sì, la cavalla viene da una bellissima vittoria all'ultima uscita, adesso allunga un po' la distanza sui 2002, però credo che lotti per la vittoria anche lei. Abbiamo sicuramente un campo per tanti particolari, chi ti piace e perché? Sì, credo che i cavalli che spiccano più degli altri sono il quattro di Atina Arrisaia TRGF, che ha militato anche in buone categorie, e le sette di Assisi Pax. La seconda corsa propone un invito che peraltro è preparazione al città di Siracusa, l'ippodromo di Siracusa con il trotto si organizza e si prepara a quello che è l'evento tanto atteso del 5 dicembre, con due corse di gruppo 3 e soprattutto tante corse di contorno interessanti. Vediamo Francesco Sirchia come il nostro segretario corse ci presenta questa corsa, dove sono ben sei i soggetti di quattro anni che hanno grosse potenzialità e che incominciano ad esprimerli proprio nella seconda competizione. In preparazione alla città di Siracusa, che vedrà qualificati anche i cavalli di quattro anni, questo invito di preparazione a questa corsa, che ha raccolto soltanto sei partecipanti, alcuni di questi li rivedremo proprio giorno 5. Ancora una volta si ripropone il match tra Ask Me Now ed Acquatinta Font e praticamente il nocciolo della questione probabilmente sarà in partenza, chi andrà avanti tra le due avrà le maggiori chance. Curiosità nel vedere all'azione quest'ospite che arriva dalla campania, Aleph Lux, accompagnata da Buone Voci, un figlio di Adrian Chip, Frenzi As, del quale si parla bene. In sort ordine diciamo un po' i restanti tre soggetti che saranno al via. La terza corsa del premio Uffizi è la corsa centrale, il monte premi più interessante, 9.900 euro, si va sul miglio con una condizionata riservata a cavalli di due anni. Sono nove soggetti al via, tra alcune novità e già qualche conferma la corsa risulta particolarmente aperta. Sentiamo sia il nostro Francesco Sirchia, sia Massimo Zanca che è impegnato con Carlotta di Gaia. Cavalli di due anni in pista per questa prova di cartello di questo convegno feriale a Siracusa, ci sono delle belle novità. Prima tra tutte Carabela. Carabela è una figlia di Andoverol che si è qualificata proprio sette giorni fa in 1.16.7, misura di tutto rispetto. Di contro questa lieva di Gasparolo Verde dovrà vedersela con Chris D'Asa che fino adesso insieme a Chris Cross, che però non sarà al via, rappresenta i soggetti più qualitativi e migliori finora visti sul tracciato. Tra gli altri che dire, Clio è sacrificata da un numero in seconda fila ma ha vinto a buona media, al debutto. Clodet Font le manca la vittoria, è sempre piazzata. Capitain Lux mi ancora non ha dimostrato quanto di buono si pensa nel suo entourage. C'è una novità, una cavalla che viene dal continente, declara risaia a TRGF, cavalla che era in allenamento a Casillo e adesso affidata al team Cintura, una figlia di Varenne, nella quale corrono buone voci, anche se il sette la sacrifica un poco nell'eventuale schema della corsa. Carlotta sta bene, le ultime due uscite sbaglia perché non era tanta bella di meccanica, adesso il lavoro sembra abbastanza quadrata e niente, speriamo per un buon piazzamento, anche se ci sono dei cavalli come Chris D'Asa, Correo, Carabella che ha fatto un'ottima qualifica, Clio che ha vinto bene all'ultima, dico una corsa qualitativa, speriamo di raccogliere il più possibile. La quarta competizione è il premio Louvre, si va sul miglio con dieci soggetti impegnati indigeni europei di 5 e 6 anni, una condizionata abbinata alla corsa e il pica nazionale. Ce ne parla Massimo Zanca che presenta sia il numero 7 di Vianzac sia il numero 8 di Zico Ianc SM. Vianzac è il numero ostico, però l'ultima anche con quel set ha corso abbastanza bene, è arrivato secondo facendo 12,9, il cavallo ha grosse potenzialità. Cerco, se riusciamo a prendere una bella schiena che ci porti avanti, conta anche lui sicuramente. Zigo? Zigo bene, il cavallo ha il numero alla corda, non so se questo Zazzabonde parte, però è un cavallo utile, regolare, a corsa favorevole può piazzarsi. Allora gli avversari? Sì, gli avversari sono in prima fila, soprattutto il 4 di Z Keshe che ha corso bene all'ultima e il 5 di Zoom LC che se si ritrova è il cavallo da abbattere. La quinta competizione manda gli allievi, insulchi per una a reclamare indigeni di 5 anni ed europei di 5 anni oltre per il premio Hermitage. Selettiva la distanza, 2.200 metri, sono 10 soggetti al via. Vediamo il campo partente, aperto da un zaffirio che si presenta in forma e può essere sicuramente della partita, così come anche Steve McQueen Trebb va per una piazza. Se non sbaglia può far bene Zapata Rab, numero 6 dello schieramento, attenzione poi agli ospiti che incominciano a venire da fuori come il numero 7 di Talete dei Mar, sfortunato nel numero. Andiamo alla sesta competizione, il premio British Museum dove con un invito da 8 e 8 scendono in pista cavalli di 3 anni. Sono 8 i soggetti al via anche su questa corsa e in preparazione peraltro per il criterio d'inverno del 5 di dicembre. Sentiamo il nostro segretario corso è Francesco Sirchia. Così come per i 4 anni, anche i 3 anni avranno un'opportunità di prepararsi al meglio per il gran premio d'inverno di sabato 5 dicembre. Tutti i migliori o quasi saranno al via, occhi puntati su Bipop Ferm che non è apparso al meglio all'ultima uscita, quando era riduce però dalla faticosa prova di qualificazione per il derby. Resta sempre il favorito perché fino ad adesso ha dimostrato le migliori cose. L'incognita può essere il compagno di colori bluetrain che sembra in regresso. Al contrario bellissima breed è in ottima forma e l'ospite napoletana Baltimore Spav è una cavalla che sta venendo fuori proprio in questi ultimi mesi. È riduce da diverse vittorie, prova subito ad alzare tiro correndo questa corsa qui a Siracusa. E poi Bata De Cola che a parte l'ultima ha sempre fatto bene. Quindi repirogando forse gli ultimi 4 con Bipop Ferm base sono i cavalli più attesi per il successo. Settima competizione a chiudere il trotto all'ippodromo di Siracusa è una seconda trizza abbinata al premio Pado. Bella ed equilibrata, sono 10 soggetti che frequentano questo campo partenti, soggetti di 5 anni oltre e di una categoria F. Vediamo come Francesco Sircchia ci presenta l'analisi di questa competizione. Sentiremo anche Massimo Zanca che è impegnato con Remi Lorfonte che è il reduce da vittoria. Categoria F che chiude il convegno, una corsa valida come seconda trizza. È una corsa bella ed equilibrata dove non c'è un favorito netto. Diciamo che scorrendo il campo partenti i migliori sembrano Vidal Tav anche se di recente ha fatto poco ma con questa sistemazione in questo contesto avrebbe una grossa chance. Umberto veloce al via che potrebbe andare in posizione e restarci fino in fondo. Tesis GV tra l'altro in forma e reduce da ottime prestazioni così come Remi Lorfonte che la sua corsa l'ha vinta. Zolder OP serve in posizione un'altra che conta così come Euronometra mentre in seconda fila gli ultimi due, Tattoo e Zabaglione Spalva, quest'ultimo che arriva dalla Campania, sembrano i soggetti migliori. Volendo approvare una base direi che si può eleggere Tesis GV come base piazzata di questa corsa. Remi Lorfonte è un cavallino d'utile, regolare, è un cavallo serio. Ha vinto bene all'ultima anche se in categoria inferiore. Adesso alza un po' in tiro e sono cavalli superiori come Vidal Tav, Umberto, Tesis GV, Zolder OP. Insomma è dura per lui in questa categoria. Non mi resta che ricordarvi l'appuntamento con il Trotto lunedì 16 novembre a partire dalle ore 13.50. Arrivederci.